Buongiorno da Guido Meda, dal circuito del Mugello. Siamo in diretta per uno degli eventi più suggestivi di tutto il campionato. L'atmosfera che sono capaci di creare i tifosi italiani su queste colline è semplicemente incredibile. Tra pochi istanti ci sposteremo sul rettilineo principale per assistere alla partenza della gara. Passiamoci subito sulla griglia di partenza. Manca pochissimo all'inizio della gara e la tensione è alle stelle. Le condizioni meteo sono ideali per correre, ma i piloti hanno lamentato carenza di grip durante il weekend. Per ovviare a questo problema, molti di loro hanno scelto di montare una gomma dura al posteriore. Grazie a tutti. Manca ormai pochissimo alla partenza del Gran Premio d'Italia qui al Mugello. Ancora pochi istanti e poi vedremo i piloti scattare verso la staccata della San Donato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti